...preso dai Morganet Heritage ed è un bel pezzo che ci dice che non c'è bisogno di avere il thread per essere rasta perché è una concezione divina del proprio cuore, del nostro cuore su quello che è qualsiasi tipo di musica è come l'ascolti, non come la presenti, non come sei ma quello che ti dice, è quello che ti trasmette è quello che tu riesci a trasmettere attraverso ogni tipo di musica, anche coi fischi che si ascolta, che si fa, che si segue ce la faremo abbassa un po' la spia ce la facciamo, ce la facciamo è un po' la spia Grazie. 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 Grazie.